Vicenza da Solidale è stata una bellissima occasione di poter incontrare le associazioni che assieme al CSV hanno fatto una rete di volontariato fondamentale per la città di Vicenza. Abbiamo fatto conoscere quanto fatto e dato, che sono numeri molto importanti, ogni euro è stato ben speso, hanno aiutato più di mille persone, più di 500 famiglie all'interno della città, in un periodo come il momento del Covid, che è stato un momento difficile per tutti noi. Ecco, queste associazioni sono state una piccola luce nel buio che ha aiutato tante persone in difficoltà.